Siamo in pieno periodo di caro bollette, siamo entrati nel trimestre di ulteriori rincari da ottobre a dicembre, tanta la preoccupazione ma c'è chi si ingegna anche con soluzioni innovative. È il caso di Fulvio Urbinelli, noto imprenditore pesarese che qui nella sua abitazione sulle colline gradarese in strada delle Babucce ha installato proprio in questi giorni un nuovo impianto, un impianto mini eolico si chiama così, che comunque dà una prospettiva sia ecologica che di risparmio economico. Sì, più che altro anche morale perché qui non si sa come andrà a finire, se il metano ci sarà o non ci sarà, però intanto io con questi mini eolici faccio una isola energetica che posso produrre la corrente per me e risparmiare anche nel metano perché posso fare a meno del metano. Con 8 mini eolici produco la media di 4 kilowatt all'ora. Dalle prove fatte noi dovremmo produrre circa 40-50 kilowatt al giorno di corrente e consumo 30 quindi vado tranquillo. Naturalmente immagino ci sia un costo di installazione di partenza che comunque è un investimento. Il costo è relativo perché secondo me i soldi servono quando servono da spendere perché i soldi in banca non riscaldano, però c'è anche il fatto che mi è arrivata la bolletta di 1138 euro luglio-agosto, cioè per 1000 kilowatt di corrente, è assurdo. Io in poco tempo ammortizzo la spesa. Da qualche anno il clima è cambiato quindi il vento è sempre più in movimento di dieci anni fa. Io ho avuto quest'idea logicalmente di prendere questi mini eolici, certo è un esperimento ma comunque siamo sicuri che funziona perché la produzione è quella, le batterie sono l'accumulo, l'inverter trasforma la corrente e quindi io non ho problemi, non ho dubbi che non ci sia il risultato. Noi poi abbiamo un grosso vantaggio che il riscaldamento come già da un anno e mezzo o due, che lo facciamo al barastra, lo facciamo con i quadri, con i quadri a infrarosso e ultravioletto. Quindi io anche il riscaldamento in casa metto un quadro in ogni stanza e ho risolto il problema per il riscaldamento, ma non solo per il riscaldamento, ma per la salute. Perché io ne ho messo uno all'inverno scorso, i miei figli non hanno avuto né tosse, né raffreddore, né mal di gola, niente, nessun tipo di influenza e questo è molto importante. È più importante la salute dei soldi, penso. E dunque una soluzione ecologica, economica, come vediamo anche facilmente maneggevole e anche semplice da installare. Urbinelli l'ha di fatto installata in autonomia ed è un qualcosa che lei consiglia soprattutto a chi abita in collina. Sì, io consiglio che chi ha la casa in collina, dove c'è, basta che tiene un po' di vento, non sai che serve grandi cose. Certo che in un condominio è più difficile, però in una casa singola, in campagna, periferia, lo consiglio perché avrete la corrente a casa con poco.